se il dritto ce l'hai accartocciato perché colpisci la palla vicina al corpo ovviamente devi creare spazio ma come? usando la mano non dominante ossia quella che non tiene la racchetta e una volta serviva per indicare la palla ma adesso serve per ruotare le spalle portare la racchetta indietro e creare spazio laterale quindi quando fai l'apertura non staccar subito la mano dalla racchetta ma portala indietro e poi crea spazio laterale per colpirla qui se poi vuoi dei consigli personalizzati per migliorare il tuo dritto posso aiutarti con la video analisi a distanza trovi tutte le informazioni sul link qui in alto a destra